Non puoi andare a far culare la mogliere così? Ora glielo dico io Signor Galasso vogliamo chiarire una cosa è vero come dice sua moglie e sua figlia che lei è un pizzarella? Assolutamente no e questa storia di 200 euro com'è allora? perchè molti hanno pensato ai carabinieri Ma la cia sta cosa, senti la cosa, parla solamente senti ascolta la cia sta cosa ti sto parlando qui con me c'è a fare causa io Messina come c'è di Manfredi o di interessi di questa cosa? ma ci sono i documenti di mio figlio e continuano a rompermi il cazzo deve stare preso non attaccano questo è il provvedimento di mio figlio scaduto due anni e mezzo fa ma invece è buono che lo facevo qua? io ci mando la questura direttamente questa è la risposta della questura di Roma al mio avvocato, gentile avvocato è tutto scaduto scriva all'osservatorio della Coppola del Cazzo per farsi caccia e abbiamo scritto alla Coppola del Cazzo per farlo cancel perfetto va bene ora ci interessa Grazie a tutti.